Giorgia Meloni è di una pasta diversa, Andrea del Mastro di Fratelli d'Italia, ospite di Giuseppe Brindisi a zona bianca su Rete 4, ribadisce la volontà del suo partito di abolire il reddito di cittadinanza Abbiamo detto che lo avremmo abolito e lo aboliremo. Il deputato ha spiegato anche che cosa farà il centrodestra una volta salito al governo, certamente immagineremo invece uno strumento a supporto della povertà e di chi non può lavorare Disabili, anziani, over 55 espulsi incolpevolmente dal mondo del lavoro, famiglie con figli a carico, queste sono le nostre emergenze, urgenze Secondo Del Mastro ci sono situazioni, consentite dai precedenti governi, che andrebbero assolutamente cambiate, certamente non potrà più accadere che il 73% degli occupabili non trovi lavoro con una misura del genere, che il 57% nemmeno vada a sottoscrivere il patto per il lavoro Le sue parole sono ovviamente in linea con quanto detto più volte dalla Meloni Basta andare a vedere il programma con cui FD si è presentata alle elezioni del 25 settembre e abolire il reddito di cittadinanza per introdurre un nuovo strumento che tuteli i soggetti privi di reddito, effettivamente fragili e impossibilitati a lavorare o difficilmente occupabili, disabili, over 60, nuclei familiari con minori a carico Grazie a tutti!